Vi parlerò di Lazio-Juventus, come ha giocato la Lazio-Redi-Viva perché non c'era più Sarri, o della Roma che ha naspato a Lecce e meno male che è uscito un pareggio preziosissimo. Assolutamente no. Tra le righe vuole sottolineare oggi la mancata assegnazione di due calci di rigore, una alla Lazio, una alla Roma, o una alla Roma e una alla Lazio, fate voi, che erano solari, lampanti e chiarissimi, attenzione, chiarissimi. Allora, perché si deve stravolgere il regolamento del gioco del calcio quando ci sono Lazio e Roma? Sarà una coincidenza, per carità, sarà una svista, e tale è stata una svista sia a Roma, da parte dell'arbitro che giudicava Lazio-Juventus, sia a Lecce, da parte di quel signore che arbitrava a Lecce-Roma. Poi i casi fortuiti, la fortuna ha girato bene sia alla Lazio perché ha assegnato all'ultimo, sia alla Roma che ha strappato un punto non meritandoselo, per carità. Però, quando ci sono i calci di rigore, indipendentemente dai meriti e demeriti delle squadre alle quali vengono assegnati, lo stesso rigore si deve dare. Si deve fischiare, dare il calcio di rigore che appartiene al regolamento del gioco del calcio. Non è possibile che qui rigori lampanti come il sole, gli ultimi due, non solo gli unici, ma gli ultimi due sono stati quelli non assegnati alla Lazio, per Lazio-Juventus e alla Roma in Lecce-Roma. Non è possibile andare avanti così perché potrebbero esserci degli errori madornali e magari far vincere squadre che non dovrebbero vincere, oppure ribaltare parzialmente o completamente la classifica di sottofondo che manda le squadre in Serie B. Sono arbitri disattenti? Non lo so. Sono arbitri che però sono all'altezza del loro mestiere, della loro professione. Allora che cosa accade? Se ci sono purtroppo queste sviste e cominciano ad essere abbastanza, allora si deve cambiare il regolamento e il VAR deve essere chiaramente più forte, deve avere un peso molto più intenso, deve avere un ruolo più importante e soprattutto cercare di inserire nel VAR signori e signore, attenzione, quindi signori e signore, che non devono essere presi dal mondo degli arbitri, cioè persone che si intendono del gioco del calcio e del regolamento relativo e connesso, ma non del mondo arbitrale, perché sennò altrimenti, se avremo un arbitro giovane si farà influenzare dal consigliere del VAR che è più esperto e viceversa un arbitro esperto di una certa tempra e di un certo spessore non si farà convincere magari dal ragazzetto, tra virgolette, che sta dietro la macchina del VAR. Bisogna rivedere qualcosa, ma ripeto, troppo spesso i rigori solari lampanti non vengono assegnati e quelli di Lazio-Juventus in fuori della Lazio e di Lecce-Roma in fuori della Roma erano lampanti e solari. Ci sentiamo al prossimo appuntamento di Tra le righe. Roberto De Angelis vi ringrazia dell'ascolto, ringrazia anche dei messaggi che stanno arrivando, poi li esamineremo nella prossima puntata. Grazie a tutti, buon proseguimento naturalmente con RSE Stapp Radio, RDA Radio 1 e tutte le radio del circuito VRA, ovvero Web Radio Associate. Ciao a tutti.